Stare a Pordenone dopo tanti anni è un'emozione strana, dico strana perché oltre ad essere ovviamente uno dei festival in assoluto, credo in Europa, che genera una passione di lettori preziosa, no? File, scambio di opinioni sugli incontri, quindi è bello stare in una situazione del genere. L'altra cosa è che, personalmente, quindi questa è la cosa meno interessante, ma insomma la dico ugualmente, è stata l'ultima volta in cui io ero libero, perché proprio mentre ero a Pordenone mi arrivò la telefonata, mi ricordo di un amico, un carabiniere, Ciro, che mi segnalava la protezione. Quindi io prendo il treno da qui, arrivo a Napoli, Napoli mi aspetta la pattuglia e da allora, da quando avevo 26 anni, domani ne ho 34, e insomma si vive in maniera più difficile. Anche per questo, con Stefano, si è deciso di tornare a Pordenone con questo progetto. Progetto di raccogliere una serie di storie assurde sulla criminalità organizzata, e non solo organizzata. Con assurde intendo dire tutte quelle storie che potrebbero imbarazzare, per come sono storie di cialtroneria, stupidaggine, il mafioso, l'affiliato, farlo apparire non simpatico, ma proprio fesso. E quindi abbiamo deciso di raccoglierlo. Lui è uno scrittore che ha impostato la sua narrativa su un aspetto grottesco dell'organizzazione criminale, ma ribadisco, non rendendoli simpatici, percependo le contraddizioni che ci sono nella vita di un mafioso, e mostrarle quanto siano le nostre stesse spesso contraddizioni. Quindi ha avvicinato, ha mostrato questo aspetto che poi fa ridere, spesso però tantissimo fa ridere. E questo cortocircuito non fa dimenticare l'aspetto drammatico e tragico, al contrario. Loro sono ridicoli, ma le mafie non sono un fenomeno ridicolo, magari lo fosse. E allora attraverso questo aspetto, appunto, ridicolo, è come se trovassi una breccia dentro la fortezza delle organizzazioni per scardinarle. Ecco perché abbiamo raccolto una serie di storie incredibili. Partirei con la prima. La prima riguarda Paolo di Lauro, boss, chiamatoci Ruzzo il milionario, boss di Secondigliano. Uno dei presidi dell'organizzazione camorristica è sempre stata la Spagna. Un vero proprio presidio, cioè investono, vivono, Barcellona, Andalusia, in molti casi anche Madrid, la Costa del Sol, che addirittura è così infiltrata dalle organizzazioni italiane dagli anni 80 e 90, che la chiamano Costa Nostra, pensate un po'. Succede che questi, con questo intendo il gota dell'organizzazione criminale, si trova in un albergo spagnolo sulla costa del sud della Spagna. Questo lo racconta, lo racconta diversi pentiti, ma in realtà soprattutto lo racconta Maurizio Prestieri, che è un pentito importante perché è stato un dirigente del clan. Mentre stanno in discoteca, vedono passare una bellissima ragazza dell'est, la corteggiano, comunque fanno un apprezzamento. Questa ragazza, non capisce, intimidita da queste sorte di belve che stanno lì ad avvicinarla, si rivolge a un uomo che la porta via, la carica su una jeep e vanno come se volessero scappare. Loro si impuntano, si mettono in macchina e seguono questo personaggio che aveva osato togliergli questa ragazza dinanzi. Lo seguono, lui neanche se ne accorge. Lo seguono quando si ferma per fare benzina, arriva la vigliaccata, lui scende solo, loro l'affiancano, scendono e lo iniziano a picchiare, tutti insieme. Lui cade come corpo morto cade. Ma dopo poco si rialza e si mette in una posizione di difesa d'arte marziale. E loro restano un po' sbigottiti, pensavano che quei calci e quei pugni fossero stati sufficienti. Invece lui non attacca, ma si difende dai vari assalti e li riempie di mazzate, al punto tale che a uno gli si spezza un dente, mi pare un dente gli è uscito dal labbro, due denti usciti dal labbro, a un altro gli spezza il braccio e poi a questo punto prestiere Paolo Di Lauro. Quindi stiamo parlando di narcotrafficanti di livello internazionale, potentissimi e temuti. C'era anche Lello Amato, detto Lello Yat, capo degli scissionisti. Di lì a qualche anno, da questa storia, questi gruppi, queste persone si ammazzeranno tra loro. Questo qui li mena tantissimo. E Paolo Di Lauro e i prestieri impauriti cercano degli strumenti per contrastarlo e vedono nel buio di questa autogrill, anzi di questa pompa di benzina, non era un autogrill, vedono una specie di mazza di ferro. Allora dicono prendiamo sta mazza di ferro e gliela chiamiamo addosso, come si dice da quelle dalle. Solo che non capiscono bene, pesano, tutti e due cercano di tirarla su, c'era un dirupo dietro questa mazza, quindi dietro questa asta di ferro. Quindi mentre stanno prendendo cadono all'indietro, cadono in questo dirupo, si spezza, mi pare Di Lauro si spezza un braccio, no? Costola, anche due costole. Se fanno male da ospedale, no? Immediatamente. E pensate a questo ridicolo, il boss decide di non farlo sapere. Chiede di non farlo sapere, la prima cosa che dice è la prima cosa di cui si preoccupa, no? Non diffondere la notizia, non farlo sapere. e accade che lui chiede la testa di questa persona che li aveva menati. Lui torna in albergo, l'albergo era di proprietà di un uomo vicino alla malavita russa e dice questo era russo come te, se no noi togliamo gli investimenti, non veniamo più qui a svernare, ce lo devi ammazzare. Sulla parola, almeno sembra così del racconto, sulla parola il proprietario dell'albergo ci sta, dice ok, poi capisce che quella persona che loro avevano cercato di menare era l'istruttore di arti marziali dell'hotel e quindi lui si presenta il giorno dopo bussa alla stanza di Lauro, tanto che lo chiama anche lui Ciruzzo, Ciruzzo senti no, ti devo dire qualcosa, io lo ammazzo, noi lo ammazziamo, lo ammazziamo, però questo è il nostro istruttore, lui non pensava che voi foste uomini d'onore, pensava ai solidi italiani che vengono qui a prendere in giro e quindi ti chiede, ti chiederebbe scusa e la storia ha diverse evoluzioni complicate, diciamo si chiude con questo ragazzo, vedete come il ridicolo poi diventa patetico, che si inginocchia davanti Paolo di Lauro e gli chiede scusa e questa cosa gli è sufficiente per tutelarsi da una figuraccia tipica tra l'altro di queste organizzazioni. Lo stesso Prestieri racconta, e poi passo la palla al secondo racconto di Stefano, racconta di quando a Rimini c'era una serata da fare con cravatta, cioè era imposta la cravatta perché era una serata di un certo tipo, si presentano da avanzo, no Prestieri era l'unico elegante, sempre lo amato, tutti i personaggi soliti dell'alleanza all'epoca del gruppo di Di Lauro, si presentano e stanno il pinocchietto infradito, no, stanno tutti messi così, e poi si diceva come vi siete presentati, vi avevo detto di mettere la cravatta, insomma di vestirvi bene, perché stasera l'incontro lo pretende, l'invito lo pretende. E loro rispondono, abbe ma chi si non sanno a noi chi siamo, cioè ma questi non sanno a noi chi siamo, cioè non c'entra niente, è un fatto indipendentemente da chi si, cioè è un fatto che bisogna vestire, cioè non è che possiamo essere gli unici che stiamo così, no, è un fatto che viene chiesto se decidiamo di stare qui, no, ci ragioniamo perché, se no andiamo in un altro posto, ma quando mai, quando mai, e questi qua volevano menare ovviamente il bodyguard che stava lì a cercare, e lui li ha dovuti prendere e tirare via, e quando Prestieri mi ha raccontato questa storia, poi ho scritto su Repubblica, dice, vabbè, a pensare che questi compravano mezza Italia, questa è l'amarezza, perché ti è questo. Grazie.